A 24 km dalla Spezia, in posizione dominante, nella lunigiana Ligure, si erge un antico borgo medioevale accogliente e suggestivo. È Castelnuovo Magra, poco meno di 15 km quadrati adagiati sulle pareti del rilievo che docilmente degrada verso la piana del fiume Magra. Un ammirabile panorama si staglia all'orizzonte in cima al borgo antico, dalla costa tirrenica al promontorio del Caprione, dalle isole Gorgona e della Caparaia, fino talvolta a scorgere i lineamenti della Corsica. La privilegiata posizione geografica di Castelnuovo Magra consente una visuale a 360 gradi della vallata, dove i tratti marcati della macchia mediterranea s'accostano e contrastano con quelli tenui d'azzurro mare della costa Ligure. È in questi incantevoli spazi tra le Alpi Apuane e il Mar Ligure che rigogliosi prosperano oliveti e vigneti di inestimabile valore. Il clima mite e la terra fertile conferiscono ai prodotti agricoli del territorio castelnovese una pregevole qualità riconosciuta in tutto il bacino mediterraneo, grazie all'abilità dei coltivatori locali, da sempre attenti alla conservazione e alla valorizzazione delle più arcaiche tradizioni agricole. Il territorio di Castelnuovo Magra rientrava tra gli antichi domini di Luna, colonia romana fondata nel II secolo a.C. di cui si possono ancora ammirare i resti nel sito archeologico posto nel vicino comune di Ortonovo. Il primo nucleo del borgo venne però edificato tra il 1187 e il 1203 per la precisa volontà del Vescovo Conte di Luni Gualtiero di erigere una fortezza nel territorio compreso tra Fosdinovo e Carrara. L'obiettivo era di rafforzare il sistema difensivo contro i Marchesi Malaspina, con cui da anni si fronteggiava. Cominciarono a sorgere attorno a questo Castrum Novum le prime abitazioni, il cui tipico andamento circolare medievale ancora è ben leggibile nella zona del Borghetto. Oggi l'asse viario principale è Via Dante, la stricata in arenaria su cui si affacciano gli splendidi portali in arenaria e marmo dei palazzi signorili, mentre i collegamenti minori si caratterizzano per gli alti muri in pietra che delimitano i viottoli stretti e ripidi, rimasti pressoché intatti. Tra le innumerevoli testimonianze storiche relative al borgo, Castelnuovo Magra vanta la presenza il 6 ottobre 1306 di Dante Alighieri, che esule nella terra di Lunigiana salì a Castelnuovo Magra nelle vesti di procuratore dei Marchesi Malaspina di Mulazzo, per concludere un accordo di pace con il Vescovo Conte di Luni, chiudendo cento anni di guerra rovinosa. Quel gesto ancora oggi viene ricordato ogni anno in una suggestiva manifestazione a carattere storico-folcloristico e in una targa affissa entro le mura. Capitale politica e religiosa della Lunigiana per più di un secolo, Castelnuovo Magra, sulla settecentesca Piazza Quercciola, conserva dell'antico splendore i resti del Palazzo dei Vescovi di Luni. Dimora signorile costruita nella seconda metà del secolo XIII, per volontà del Vescovo Enrico da Fucecchio, divenne fortilizio militare dopo varie ristrutturazioni avvenute durante la dominazione fiorentina e quella genovese nel XV e XVI secolo. La sua Turris Magna, mastio del sistema difensivo, è ben riconoscibile da lontano e caratterizza il profilo di Castelnuovo Magra. Di notevole pregio storico e architettonico è anche la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, risalente al XVII secolo. Le tre navate di cui è composta sono delimitate da 12 imponenti colonne in marmo bianco di Carrara, che la tradizione vuole provenienti dall'antica cattedrale di Luni. L'opera d'arte di maggior valore è la crocifissione del fiammingo Peter Bruegel il Giovane, posta nella prima cappella di sinistra. Dipinto realizzato su cinque tavoli di rovere è una delle copie di una famosa crocifissione del celebre Peter Bruegel il vecchio, andata dispersa. Immediatamente colpisce l'anomala presenza di una quarta croce, che simboleggia forse lo stato di sottomissione del popolo fiammingo alla dominazione spagnola. L'oratorio dei Rossi o del Santissimo Sacramento si trova proprio a fianco della parrocchiale. Sulla porta d'ingresso un basso rilievo in marmo rappresenta due angeli che sorreggono lo stensorio. Sull'altare si conserva un crocifisso ligno di probabile provenienza toscana. Sotto la chiesa, in una delle vie ad andamento circolare del borgo, delizia alla vista un'imponente facciata in stile rinascimentale. È l'oratorio dei Bianchi, un edificio di fine cinquecento ad l'aula unica incastonato tra basse abitazioni. Incuriosiscono e affascinano le maestà, immagini devozionali in basso rilievo legate al culto della Madonna, poste sulle pareti esterne del centro storico e di via Roma. Centro amministrativo di Castelnuovo è il Palazzo Comunale, ospitato presso il Palazzo Amati Ingolotti Cornelio, ricco di affreschi ottocenteschi del pittore Bontemps. Le cui cantine cinquecentesche deliziano non solo la vista per il soffitto a volte e le vasche per la conservazione dell'olio d'oliva, scavate nei blocchi di marmo di Carrara, ma anche il palato. Qui ha sede l'enoteca pubblica della Liguria e della Lunigiana, associazione di ambienti pubblici e produttori privati. È stata costituita nel 1996 con l'obiettivo di avviare un'attività promozionale dei prodotti enologici locali. Il bianco e il rosso dei colli di Luni, il Cinque Terre Doc, lo Chacquetra Doc, i vini del Tiguglio e di Levanto e il Vermentino Doc. Da citare il giardino sul retro del Palazzo Comunale, che è solo uno dei numerosi esempi di giardino pensile realizzati nel borgo dal 1700 in poi, utilizzando in parte terreni originariamente adibiti ad orti. Territorio poliedrico Castelnuovo Magra vanta anche la presenza di impianti minerari per l'estrazione della lignite. Attive per circa due secoli, le miniere di Castelnuovo dovettero chiudere negli anni 50. Furono i cosiddetti sepolti vivi, minatori che provarono a barricarsi nei pozzi per scongiurare la cessazione dell'attività, gli ultimi baluardi di una tradizione mineraria destinata a scomparire per sempre. Accarezzato dalla brezza marina e attraversato da docili venti mitigati dai monti, il territorio castelnovese è fin dall'antichità tra i più floridi produttori di Vermentino in Liguria. Testimonianze storiche farebbero risalire tale evocazione vitivinicola addirittura al VI secolo avanti Cristo. Il suo più apprezzato al primo posto per quantità e qualità in tutta la provincia spezzina è il Vermentino dei Colli Luni, insignito del marchio Doc nel 1989. Un museo del vino è stato allestito dalla famiglia Bosoni in una suggestiva tenuta agricola per esaltare la storia e le tradizioni del vino e in particolare del Vermentino della Val di Magra. Numerosi oggetti e materiali utili alla produzione del pregiato vino sono esposti nell'elegante struttura castelnovese. Raccontano la storia delle vigne, delle cantine, di quel primordiale sodalizio tra l'uomo e i frutti della terra. Per tutte queste ragioni Castelnuovo Magra, 8.000 abitanti e poco più, è il comune capofila di Verturmer, salvaguardia e valorizzazione del territorio terroir del Vermentino del piano operativo Italia-Francia Marittimo, finanziato dalla Comunità Europea. È un progetto di valorizzazione del vino e del relativo territorio, nell'ottica della promozione enogastronomica delle terre dove il vitigno è storicamente presente. Prodotto del progetto Verturmer a Castelnuovo Magra è il Museo Multimediale del Vermentino, adiacente al giardino comunale dove è possibile visitare virtualmente i luoghi di produzione dell'omonimo vino. Attraverso prodotti multimediali come video, guide e database delle aziende del Vermentino, studio architettonico delle terre e dei paesaggi del Vermentino. Non solo Verturmer promuove il ridente comune sulla Val di Magra. Ogni anno si succedono numerose manifestazioni turistico-culturali in grado di valorizzare le tipicità del territorio, come la rassegna dell'olio d'oliva e dei prodotti di qualità, che si tiene nel centro storico il primo fine settimana di giugno e che permette al visitatore di conoscere le produzioni locali e di assaggiare le specialità gastronomiche offerte dalla Proloco. Altro rinomato evento legato alle tradizioni in tavola è la Sagra della Frittella, nella vicina frazione di Vallecchia. Nella seconda metà di luglio i visitatori possono assaggiare delle gustose frittele di farina di grano con l'uvetta preparate direttamente dalle donne del paese. Nella stagione autunnale è invece possibile assistere a Benvenuto Olio, con l'assaggio della nuova produzione dell'extravergine d'oliva, e Sapori d'autunno, dove regnano in tavola farina di castagne e di mais, salumi e formaggi, oltre al fiore all'occhiello della terra castelnovese, il vino, promosso dal progetto Verturmer attraverso la fiera promozionale Benvenuto Vermentino, che si tiene nel mese di maggio nel centro storico di Castelnuovo Magra. Durante la manifestazione viene assegnata l'onorificenza di ambasciatore del Vermentino a un personaggio del mondo della cultura, dello sport o dello spettacolo. Numerose le manifestazioni a carattere culturale che si vengono a Castelnuovo Magra, come cinema cultura, teatrica, festival teatrale di compagnie amatoriali e il corteo storico, ovvero la rievocazione in costume medievale della pace di Dante. Grazie ad una rigorosa e costante attenzione per l'ambiente, per il territorio e per le tradizioni locali, il comune è stato recentemente insignito della bandiera arancione, riconoscimento che il Touring Club italiano assegna ai comuni dell'entroterra che si distinguono per un'offerta turistica di qualità e della bandiera verde per la particolare attenzione all'agricoltura di qualità. Il palazzo municipale custodisce invece il Gonfalone di Castelnuovo Magra, una croce a ricordare il potere ecclesiastico ed una mezzaluna in memoria della città di Luni, 800 anni di storia ricamati su un prezioso drappo rosso, lo stesso rosso evocato nei memorabili versi di Vincenzo Cardarelli, l'argilla pulita e i pampini che s'avvivano al sole. Grazie a tutti!